Promobol esce sconfitta in trasferta dalla tredicesima gara valida per il campionato di Serie C FIPAV contro la Volley Torbole Casaglia con il risultato di 3 a 1. Il sestetto titolare è subito in campo come starting six selezionato dall'allenatore della Promobol Johnny Taramelli. Si parte subito quattro pari con Marinoni dolorante alla schiena che non può battere in salto. La gara continua sul 7 a 9 per le ospiti di Bienno che giocano bene e costringono le padrone di casa del Torbole Casaglia al primo time out. La gara torna combattuta su 14 a 16 con Taramelli che chiama il suo primo time out a cui segue però una perdita di concentrazione che porta la gara sul 19 pari a cui segue il secondo time out di Taramelli che questa volta serve e porta la gara sul definitivo 22 a 25 per le biennesi. A inizio del secondo tempo Taramelli mette in campo lo stesso sestetto del primo set ma la partita è sotto tono con le ragazze del Torbole che si portano sul 5 a 3. Sul 10 a 6 Taramelli chiama il primo time out per smuovere la partita ma si susseguono una serie di errori che portano la gara sul 17 a 12. Doppio cambio per Promobol con Di Giulio e Basalari per Sandrini e Beschi per cercare di riprendere in mano la situazione che però sfugge definitivamente di mano con le avversarie che si aggiudicano il secondo set per 25 a 17. Inizio del terzo set piccole modifiche alla formazione originaria con Basalari, Piantoni, Bergamaschi, Beschi, Sandrini, Gannar. Promobol parte anche questa volta leggermente sotto tono con un 7 a 4 sintomo di una scarsa concentrazione in campo. Taramelli cerca di serrare le fila sul risultato di 11 a 6. Momentaneamente la mossa porta gli effetti desiderati infatti Promobol riesce a portarsi avanti sul 14 a 15 ma il vantaggio dura poco con le padrone di casa che si riportano subito avanti prima sul 16 a 15 e poi con il 25 a 17 sul finale del terzo set. Formazione di inizio set alla quarta frazione per Promobol, Beschi, Marinoni, Basalari, Ganna, Rozzini, Ferrari. Dopo una partenza buona sull'1 a 3 l'arbitro interrompe la gara dopo essersi accorto di un errore da parte sua sulla formazione in campo registrata sul referto. La piccola pausa non cambia la situazione in campo con le Torbolesi che si portano subito avanti sul 9 a 5 ma in questo set la gara torna veramente combattuta. Si lotta punto su punto prima sul 13 a 13 poi sul 19 pari. Le padrone di casa si portano avanti sul 22 a 20 ma la gara passa ai vantaggi con le ragazze della Promobol che provano il tutto per tutto ma il set finisce 26 a 24 con le padrone di casa della Volley Torbole Casaglia che si aggiudicano la gara con il risultato di 1 a 3.